Allora ragazzi, i motori sono caldi, i gettoni li abbiamo consegnati, prendiamo la atmosfera giusta e si comincia a raggiungere, ciao a tutti e buon viaggio! Vediamo che bello, vediamo che bello! Ed eccolo qua la nostra crazy boy, il primo movimento ragazzi, è partito, eccolo! Voce ragazzi, voce! Il campionale è sottra, a più di 80 ora, 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 ragazzi! A più di 80 ora, ragazzi, è partito, è partito! E' lungo! I più di 80 ora, ragazzi, è partito, è partito! ha finito il pantalello si vola, si vola, si vola si vola 4-1, Lugo che divertissima ragazzi e ragazze spero vi sia piaciuto grazie a tutti e buona serata ciao ciao alla prossima